Ragazzi, allora, come sapete, in questi due giorni le presentazioni e gli eventi al CS sono tanti, quindi ci sarebbe da parlare di un sacco di cose, però io mi concentrerei principalmente sul succo del discorso, cioè quali sono stati i prodotti che abbiamo visto e soprattutto quali sono quelli più interessanti. Noi abbiamo comunque visto che Invidi ha lanciato le Super e questa era una cosa che già sapevamo e anche AMD ha fatto una presentazione dove ha annunciato una serie di prodotti che vedremo in questo video. Ma prima, lo sponsor di oggi è UKIES, che tra l'altro ci accompagnerà per tutto il 2024. Se andate sul sito, inoltre hanno aggiornato anche i prezzi delle varie chiavi proprio in questi giorni. Se dovete acquistare una licenza Windows 10, ok, c'è il codice sconto MHD, che una volta inserito all'interno del carrello in fase d'acquisto, ragazzi vi dà il diritto al 25% di sconto su qualsiasi chiave software andata ad acquistare sul sito. Vi faccio un esempio banalissimo. Windows 10 normalmente costa 17€. Inserendo MHD nella sezione codice promozionale, ve lo portate a casa a 13€. E volendo lo potete utilizzare pure per fare l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Ma non solo, tutte le versioni Pro di Windows 10, le versioni direttamente di Windows 11, le versioni di Office, insomma, tutto quello che vi può servire, giù trovate i link e tranquillamente potete acquistare utilizzando il metodo di pagamento che preferite. Ad esempio c'è Paypal, che è un metodo di pagamento, tra l'altro, sicuro da utilizzare online. Vi arriva il codice o sulla vostra email, oppure lo andate a pescare direttamente all'interno del vostro account di Wookies. Andate nella sezione di sistema attivazione, quindi incollate il codice ed il gioco è fatto. Qualsiasi chiave, ragazzi, qualsiasi software, sono anni che io ormai le acquisto esclusivamente su Wookies, perché mi trovo benissimo. Tra l'altro le chiavi sono riutilizzabili nel momento in cui voi andate a formattare il computer o volete trasferire la licenza su un nuovo PC, quindi che state aspettando? Giù ci sono i link, andate su Wookies. Ma adesso torniamo al video. Raga, come sempre vi ricordo in ultimi iscrivervi al canale, non lasciatela un'iscrizione, se volete giù ci sono i vari link per seguirmi su tutti i social. Allora io partirei col dire che nessuno si aspettava che AMD presentasse qualcosa di chissà, diciamo, di che interesse. Non c'erano rumor, non c'erano leak che parlavano di prodotti, ok, interessantissimi, però partendo un attimo da quello che è stata la presentazione, come, diciamo, io ho visto veramente un'azienda con un modo di comunicare che lascia abbastanza, diciamo, perplessi, senza nulla di importante tra le mani, a prescindere da quelli che poi sono stati prodotti, c'è stata fatta una comunicazione abbastanza priva, ecco, di contenuti. Si è parlato sicuramente dell'IA, si è parlato di varie collaborazioni in vari ambiti, nell'ambito gaming, nell'ambito dei software per la produzione video. E in queste varie pillole che sono state fatte vedere durante la presentazione, poi AMD ha inserito quelli che saranno i prodotti che vedremo in questi primi mesi. E ci sono una serie di processori. I meno interessanti sicuramente sono i processori basati su AM4, perché AMD, ancora una volta, va ad aumentare, va a rifocillare quella che è la sua line-up di processori 5000. E sebbene possano sembrare interessanti sotto certi aspetti, in realtà la maggior parte di questi prodotti sono processori, alquanto inutile, perché non trovano, secondo me, in questo momento, una fetta di mercato, diciamo, ambita. Loro hanno presentato, a parte i processori 5700X3D e 5700Liscio, che sono due processori sicuramente interessanti, sono degli 8-core, 16-thread, ma con il 5800X3D, che si trova ormai stabile tra le 300 e le 330-340 euro, e soprattutto il 5800X, che su Amazon lo si trova ormai a 200 euro, ecco, è difficile immaginare che questi due processori possano avere un interesse o possano trovare un mercato importante. Oggi, nel 2024, gennaio, dove AM4, si sa, è una delle piattaforme che presto probabilmente verrà dismessa. Il 5700X3D non è altro che un 5800X3D leggermente depotenziato, soprattutto dal punto di vista del clock, mentre il 5700 è fondamentalmente sulla stessa architettura del 5700G, ovvero è un Cezanne che manca addirittura anche del PCIe Gen 4, cose del genere, per quanto questo non è che può essere un problema, perché parliamo di una CPU che dovrebbe andare a finire sul mercato sotto le 200 dollari MSRP, molto probabilmente, ma capite che non c'è tutto questo interesse nel vedere questi nuovi processori e allo stesso modo sono stati lanciati anche due nuovi processori della serie G che poi vengono rinominati, in questo caso, da AMD in GT. Uno è il 5600GT e uno è il 5500GT che anche in questo caso hanno dei piccoli vantaggi lato clock e quindi possono avere un boost prestazionale del 4, 5, 6, 7% massimo, ok? Sui loro predecessori 5600G e 5500 che non ha la grafica integrata in questo caso, sono processori che ormai voi trovate veramente a dei prezzi bassi, cioè il 5600 nella versione 3, cioè nella versione senza dissipatore, quindi non boxato, lo si trova anche a 80-90€, nella versione boxata si trova sopra le 120€ e io non capisco qual è l'utilità di andare a lanciare due nuovi processori su queste fasce che, voglio dire, non è che sono dei processori così ambiti, ok? Per chi oggi cerca anche un computer budget da gaming perché con le GPU 6600-7600 si riescono a fare dei PC economici con qualcosa, diciamo, di dedicato. Diverso è il discorso invece del lancio dei nuovi processori della serie G che sono dei processori 8000 quindi basati su architettura nuova quindi AM5 come socket e con le nuove integrate Radeon ovvero la 780M e mano a mano a scendere 760-740M Questi processori sono interessanti perché se voi ci fate caso sono molto simili a quelli che erano i processori che abbiamo visto in una serie di, diciamo, console handheld che avevano la 780M come grafica e sono delle grafiche integrate che dal punto di vista prestazionale arrivano anche ad avere le performance di schede video dedicate di qualche anno fa quindi se voi immaginate una 1050, una 1050 Ti una 1650 beh, ecco, queste grafiche integrate sono molto simili a quelle schede in performance e quindi di fatto possono essere anche utilizzate per un minimo gaming leggero su dei titoli ovviamente che non appesantiscono più di tanto il carico sulla GPU il problema è che i processori della serie G sono sempre costati almeno i top sono sempre costati un po' tanto cioè qui si parla di un 8700G che è un processore di tutto rispetto ragazzi un 8 core, 16 thread con delle GPU integrate che sono buone da utilizzare ma che parte da un prezzo di oltre 300 dollari e capite che non può essere in questo momento un'alternativa da valutare nel caso in cui voi vogliate fare un PC da gioco fondamentalmente ma può essere preso come processore per magari piccoli sistemi compatti senza scheda video dedicata sui quali principalmente si ci lavora si ci fa un po' tutto e volendo si può anche sfruttare un po' l'RDNA integrata per giocare a qualcosa perché con un costo di 329 euro metteteci una scheda madre B650 qua schizzate a 500 e passa euro solo di piattaforma e quindi il loro costo diciamo ne limita un po' secondo me il largo utilizzo soprattutto in un momento in cui sulla fascia bassa diciamoci la verità le schede video non è che mancano le schede video ci sono soprattutto lato AMD il discorso sulla 7600 XT ragazzi invece è un discorso un po' differente perché è stata annunciata nei leak il mese scorso e quello che noi vediamo è semplicemente una 7600 che paro paro come era prima stesso chip stessa conta di stream processor stessa conta di compute unit viene portata a 16 giga di ram con lo stesso memori bassi di 128 bit e mantenendo la stessa velocità sia delle memorie sia in bandwidth generale il punto di questa scheda qual è? è che su queste fasce sì sicuramente fa bene avere una scheda da 16 giga rispetto alla 7600 che era da 8 giga però il vantaggio dal punto di vista proprio della potenza grafica su questa scheda non c'è è vero che AMD già è forte su questa fascia perché ha la 6600 liscia le 6650 XT la 7600 c'ha le varie 6700 6750 XT e c'ha tutto quello che volete però è una scheda inutile ragazzi c'è una scheda che viene spacciata per la top nella sua categoria quindi la top come scheda di fascia bassa solo perché c'ha 16 giga di ram sarà sicuramente utile ma a 300 e passa dollari cioè va a rompere le scatole alla 4060 ma che è una scheda che fondamentalmente la 4060 cioè è una delle peggiori schede quindi non è che si va ad ambire a rompere completamente quella fascia magari facendo una sorta di 7700 XT depotenziata che può veramente aggredire il 1440p in maniera prepotente come lo è stato per la 6700 XT in passato no quello che si va si va ad aggiungere una scheda che ha delle prestazioni grafiche relativamente buone e che l'unico vantaggio è di avere 16 giga e il vantaggio anche in prestazioni lo si ha dove? lo si ha in quei giochi in quelle risoluzioni dove i 16 giga possono darvi quel piccolo boost di prestazioni rispetto agli 8 giga vi ripeto io non sto dicendo che queste sono schede diciamo non buone dal punto di vista prestazionale o che sono schede che fanno schifo o cose del genere no sono delle buone schede ma sono delle schede che su questa fascia di prezzo non cambiano il mercato più di tanto e la stessa 7600 XT è una scheda povera di innovazione povera di salto generazionale verso una 7600 che già è stata una scheda che quando è uscita non ha fatto impazzire nessuno perché c'era la 6650 XT che costava meno e andava uguale praticamente ok quindi è una sorta di 6650 XT con 16 giga di VRAM quando in realtà ci sono le 6700 da 10 giga o le 6700 XT che bene o mal stanno ancora là quindi non c'è stato nulla né prima ok quindi non c'era nessuna hype nei confronti di AMD che probabilmente durante l'anno poi lancerà i nuovi processori Ryzen e quindi ci sarà moto dal punto di vista dei processori è forte AMD dal punto di vista delle Radeon a mio avviso siamo in un momento veramente di stallo ok per AMD che con l'uscita dell'FSR3 aveva comunque modo di riguadagnare un po' di terreno con l'uscita della 7600 XT secondo me cioè è ferma è rimasta ferma a quelle che erano le performance e diciamo le fasce che aveva già e su cui già fondamentalmente era forte però in ogni caso fatemi sapere voi che cosa ne pensate come sempre qui sotto nei commenti iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto vi è stato utile ditemi voi e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao ragazzi iscriviti al canale